Ok Stella, siamo arrivati al secondo round, vizio che di scala stanca, siamo due pari. Tre, tu vuoi partire la seduta? Vieni qua, tre, due, uno. Ragazzi lei non va? Ho vinto! Sì, sì, sì. Sì, tre a due ragazzi, sono fortissimo. Ok Stella, ora devi giocare perché non hai giocato. Tre, due, uno ragazzi, siamo tre, due, no? No, ragazzi per poco, Stella l'ha fatto, quindi siamo tre pari. Ok, tre pari, tre, due, uno. Vai, vai, no? Ragazzi ma come ha fatto? Come ha fatto quattro o tre per lei? Non ci posso credere, è tutta una costa pallina. Quattro o tre per Stella. Stella, devi partire da qui. Quattro o tre per Stella, devo farlo. Ok? Dai, no? No ragazzi, cinque o tre per Stella, non è possibile. Cinque o tre non è possibile. Non posso accettare, non posso accettare la costa pallina. Sì, l'India. Siamo cinque o tre. Perfetto. Vai. No, ma io sbaglio proprio. No, ragazzi, sei a tre per Stella, non ci posso credere. Tu dammi questa pallina. Ehi, come me la vuole dare? Sei a tre. Sei a tre, ragazzi. Via. Sei a quattro, sì. Sì, sei a quattro. Perfetto, dai, la sto recuperando. Dammi questa pallina, vieni a portarmela. Sì, ok. Sei a quattro, siamo perfetti. Ok, sei a quattro. Sei a quattro. No, mi sento sbagliato. È entrata, è entrata, sì. È entrata, ragazzi. Devo parlare piano perché c'è da un po' di cose. Sei a cinque. Andiamo lì. Sei a cinque. Sei a cinque. Vediamo se ci sarà la rinomata. Via. Non, ti sei. Sei, 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 sei. Sei pari. Non, sei. Sei pari. Bigardo, ragazzi. No, dono, ragazzi. Go, dono, sette, sei. stella no ragazzi non mi dite che io non ho più voglia non ci posso credere ciao ho riutilizzato la mossa della stanchezza ora ci sarà nel sesto episodio il continuo per adesso siamo 7 a 6 per thomas tanto vincere